Ha aggredito la compagna davanti ad un poliziotto, poi si è scagliato anche contro di lui. Adesso dovrà rispondere delle accuse di violenza e resistenza pubblico ufficiale. È successo ieri sera attorno alle 21 nei pressi di Piazza del Popolo. L'agente fuori servizio era assieme ad alcuni amici quando ha assistito alla scena. I toni decisamente concitati tra l'uomo e la donna lo hanno spinto ad intervenire. L'aggressore, così per tutta risposta, prima ha spintonato la compagna che cadendo ha sbattuto la testa. Poi, quando l'agente si è qualificato come pubblico ufficiale, intimandogli di calmarsi, gli si è scagliato contro facendolo cadere. Sulla scena è poi comparso anche il cane della coppia, un pitbull senza quinsaglio né museruola, che si è avvicinato ringhiando all'agente di polizia. Alla fine il poliziotto è riuscito a fermare l'uomo, mentre nel frattempo sul posto sono arrivate anche due volanti che hanno ammanettato l'aggressore, già noto alle forze dell'ordine. Per lui sono scattate le manette. La ragazza, invece, anche lei con precedenti di polizia, ha rifiutato le cure mediche e si è allontanata con il cane. Grazie. Grazie a tutti.